Ciao a tutti! Questa mattina abbiamo fatto un giro in edicola prima di venire qua e abbiamo trovato questa bustina, scatolina che costa 2,90 yes, è 90 dobbiamo farla vedere degli Avengers, della Marvel e della Eddie Junior sì, Eddie Junior e dobbiamo scoprire che cosa c'è all'interno allora, dietro nella scatola ci fanno vedere che si può trovare un poster da colorare un puzzle da colorare poi questi le sagome da colorare e il puzzle adesso lo apriamo e scopriamo effettivamente che cosa abbiamo trovato io spero per il poster tu speri per il poster e mi sa che sei stato accontentato vai aprilo abbiamo trovato tutto abbiamo trovato le sagome da colorare ecco il poster a me viene questo chi è quello? Iron Man? quello là? il tuo Iron Man questo è il capitano yes io lo voglio uscire dall'altra parte si colora il tuo poster yes le sagome abbiamo trovato di questo è Hulk questo è Iron Man chi è? Iron Man Iron Man ok quindi le due sagome e il puzzle fa vedere il puzzle com'è? ma non sono quei puzzle facili eh beh sì sono nove pezzi abbiamo il puzzle secondo me no è perché qua stacchi tutti i pezzi però qua rimane tutto il disegno sì e non so se è un puzzle da colorare dovremmo smontarlo bianco 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 yes vedete? anche qua è da colorare quindi alla fine con 2,90 euro siamo portati a casa tante belle cosine il puzzle da colorare le sagome degli Avengers da colorare il poster solo che non abbiamo i colori adesso li prendo però li prendo li prendo li prendo ne abbiamo tanti i colori ecco i colori li ho recuperati così con questi possiamo colorare cosa vuoi colorare che è Pietro? la sagoma di Hulk o Iron Man? Iron Man tieni e ti serve il rosso e il giallo vero? il rosso e il giallo e il giallo vabbè tanto comincia io allora coloro Hulk con il verde come fare non si può questo colore si deve andare è un po' più verde mi sa oltre no è un verde più chiaro più brillante cos'è cos'è l'evitare cos'è l'evitare eh lo so non è neanche verde bosco proprio così cosa ne pensi al tuo puzzle i capelli come li ha? neri? si i pantaloni no viola blu è finito il puzzle bravo bravo adesso lo voglio mettere qui ragazzi non ho capito seul che buono come sta venendo il tuo iron man bello 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 come adesso anche il mio Hulk allora facciamo la manona tra l'altro questi queste buste che si trovano in edicola ci sono anche nella versione per bambine quindi magari con le principesse o con degli altri personaggi bellissimi bravo Simo lo sapete che Pietro va in campeggio la prossima settimana domenica sta 5 giorni in campeggio l'ho finito ma dormi proprio in tenda Simo? no dormi in una casa nel bosco oh che bello adesso io io quello vale mi serve il rossone c'è la Pietro e adesso lo sta usando tuo fratello usano altro colore allora voglio lui per fare la maschera te però non vai Simo in campeggio no non può andare non è vero ma non sono qui grande se non hanno se non vanno in seconda non ho più l'ho colorato il pantalone eh sì mi ha dato il blu eh fai pensavo fosse il muscolo della cosa vabbè no io li faccio di un altro verde non è perché non ha il colore non mi preoccupi da e quindi cosa farete Pietro? ah giochi con l'acqua faremo delle camminate anche io ci andavo con il gioco piccolato c'è alla tua età ma non lo so ma lo so che Pietro di notte fa degli scherzi c'è prendi delle ricette e le metti sotto un'unico di due femmine ah bravo si fa queste cose Pietro ma non le faccio guarda che pietro sono le ricette e poi di notte comunque mi ricordo anche da bambina facevamo queste queste campeggio si li chiamavamo con la parrocchia si io pure sono belle divertenti io non vedo l'ora di tornare a casa però dai io ho colorato scusate il cugino di Hulk perché sono tanti colori e io sto colorando una specchia di Hulk si è colorato il cugino si è il suo cugino dai oppure si è abbronzato un po' ma non so come è il suo cugino che qui è tutto rosso è rosso il suo cugino? e ha dei cugini e due spade io penso che la pulata sia finita come hai messo il tuo Iron Man? bello sta venendo io ho fatto così lo guardo mi serve il rosso bello 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 qua ti serve il rosso che ha Simo si eh però posso prendere prendi il blu dai che cosa hai di blu Iron Man? mi voglio quindi se andate in vacanza anche se andate giù al mare magari vi portate dei colori vi fermate in edicola e almeno passate si e dico passate qualche momento magari quando è proprio caldo 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 che sotto il sole non si sta ma mi piace sto gioco e niente passate qualche momento così a colorare gli Avengers salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito Simo vi salutiamo ci vediamo alla prossima puntata mettete like iscrivetevi al canale Simone Pietro giochi per ragazzi e buona giornata a tutti ciao